E' importante il counseling delle pazienti che hanno avuto diagnosi di fibromatosi e poi desiderano avere una gravidanza, proprio perché abbiamo detto che esiste una correlazione tra le due cose. Una paziente che ha una fibromatosi in osservazione, in caso di futura gravidanza, ha una chance di progressione della malattia di circa il 40%. Sappiamo però che dopo la gravidanza si potrà avere una regressione della malattia o che comunque in caso di necessità di trattamento al termine della gravidanza questo può essere fatto in maniera sicura in più del 90% dei casi. E' importante dire che non vi è un rischio ostetrico per il feto e per la madre se si ha una gravidanza in corso di fibromatosi. Dal momento che negli ultimi anni si è sempre più favorito una politica di osservazione per i desmoidi, soprattutto appunto in quelli che hanno una problematica più favorevole, noi ci troviamo spesso a dover consigliare le pazienti rispetto al desiderio di un'eventuale gravidanza dopo la diagnosi di desmoide oppure il desiderio di una ulteriore gravidanza dopo la diagnosi di un desmoide correlato ad una precedente. Allora questa è una condizione differente, ma altrettanto i dati che abbiamo raccolto, che sono anche stati analizzati in una serie di più di 100 pazienti trattate presso 4 centri di Nord America e in Europa, ha mostrato che la gravidanza dopo una precedente diagnosi di desmoide può essere condotta a termine, diciamo in maniera molto sicura sia per la madre che per il feto. Vale a dire in tutti questi 100 casi non si è osservato nessun danno per il nascituro e nessun danno per la madre. Certamente l'insorgere della gravidanza e quindi il mutamento dello stato ormonale della paziente porta ad un rischio che la fibromatosi possa progredire, possa andare in progressione sia dal punto di vista sintomatico che dimensionale. Questo è importante che sia noto, infatti la probabilità di avere una progressione in corso di gravidanza o anche subito dopo il parto è di circa il 40%. Anche il periodo dell'allattamento in realtà va considerato in questo intervallo perché durante l'allattamento lo stato ormonale rimane comunque simile a quello della gravidanza. Che cosa succede se una fibromatosi inizia a crescere o diventa sintomatica in corso di gravidanza? Quello che noi di solito consigliamo è ovviamente un monitoraggio più ravvicinato durante la gravidanza anche della fibromatosi, questo avviene di solito in corrispondenza delle ecografie ostetriche, si valuta anche, si verifica se la fibromatosi è in accrescimento o meno, ma in genere si cerca di arrivare al parto senza ovviamente dover fare nessun tipo di trattamento specifico. Dopodiché se al termine della gravidanza, dopo il parto, si è verificata una progressione significativa della malattia, si può decidere di effettuare un trattamento attivo, vuoi di tipo medico o vuoi di tipo chirurgico. Viceversa se la progressione di malattia è stata modesta e non ha dato luogo a sintomi specifici, si può continuare ad osservare la situazione e spesso, ancora una volta in circa il 40% dei casi, si osserverà una regressione spontanea in corrispondenza del ritorno allo stato ormonale precedente, quindi normale e non corrispondente a quello della gravidanza. È importante dire che è giusto che il centro di riferimento che segue le pazienti con fibromatosi abbia anche un collegamento con il ginecologo di fiducia in modo da discutere tutte le possibili criticità da affrontare in corrispondenza del parto o comunque della gravidanza stessa. Abbiamo già parlato della sorveglianza, se poi il desmoide fosse in corrispondenza proprio della muscolatura addominale o fosse di voluminose dimensioni bisogna mettere in conto che il parto naturale potrebbe essere più difficoltoso per le spinte e quindi concordare con il ginecologo o eventuale taglio cesareo. Un'altra cosa di cui le pazienti devono essere informate se per esempio trattate in passato per una gravidanza della parete addominale che ha richiesto una ricostruzione della parete con rete e che in caso di gravidanza parto vuoi naturale vuoi cesareo proprio per diciamo la distensione della parete addominale che avviene in gravidanza a posteriori la vecchia cicatrice, la vecchia ricostruzione su rete potrebbe dare luogo a un rilassamento quindi un'ernia incisionale. Si tratta ovviamente di una cosa che se necessario può essere corretta ma fa parte delle informazioni da considerare.